buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale quello che vi sto mostrando è il grafico settimanale dello standard pur 500 e vi faccio notare come dal livello dei 4200 4 1150 quindi da un supporto veramente molto significativo il mercato abbia reagito con una candela che ha pochi pochi precedenti su base settimanale nell'ultimo anno e lo ha fatto però con qualcosa che non è molto congruo che sono i volumi di scambio sul principale derivato ci si potrebbe aspettare in un contesto del genere che un movimento di tale congruità che tra l'altro ha veramente coinvolto una massa molto grande di azioni diciamo tutte le azioni sono state coinvolte mentre prima avveniva quasi solo con le grosse capitalizzazioni ebbene i volumi non sono stati granché vi faccio osservare anche un'altra cosa se noi andiamo a guardarlo nella sua evoluzione giornaliera ci viene in mente qualcosa anche di ancora più interessante immaginatevi uno che ha aspettato i saldi no un grosso operatore che ha aspettato dei prezzi bassi per comprare vede la reazione potenziale comincia a comprare compra sicuramente anche a questo prezzo ma quando il prezzo comincia a salire siccome lui ha atteso a lungo che arrivassero i saldi non è che è tanto contento poi di partecipare a un'asta in acquisti allora a me viene in mente che certi acquisti siano più dovuti che voluti e altra cosa strana più si va verso l'alto più le candele si amplificano le chiusure sono sui massimi quindi si compra fino all'ultimo minuto però stranamente i volumi negli ultimi cinque giorni sono andati più o meno poi sempre calando lo vedete qui e questo è un fatto particolare e diciamo così ha un po di odore di ricopertura di short covering perché è interessante quello che si vede e quello che va come dire disegnandosi dei grafici la stessa cosa la si può vedere ovviamente anche se si va a ragionare sull'indice nasdaq medesimo ma passiamo alla solita analisi dopo aver visto questa interessante situazione si muove anche l'euro dollaro e questa volta a favore di euro il la congestione diciamo così a cui c'eravamo abituati da tempo è andata rompendosi a rialzo ma dato forse ancora più eclatante questo forte movimento di euro dollaro ci ha portato anche a vedere una rottura verso il basso diciamo andati in onda tutta in un'unica sessione del box che c'era sul dollar index qui vediamo un box che è durato mesi rotto a ribasso con una sola candela secca pronti via giù e anche possiamo vedere altri aspetti molto interessanti guardiamo qua noi abbiamo visto anche tornare sul supporto lo vediamo qui il primo utile anche se c'è stato un approfondimento ancora più in basso questo dal target dopo la rottura di questo come dire di questa congestione la in cima verso il 5 per cento dal primo target utile il prossimo intorno ai 436 lo vediamo qui chissà se il rendimento del decennale americano ci arriverà ribasso dei rendimenti che coinvolge lo vedete molto molto bene anche il bund tedesco che così magari andrà di nuovo a testare questa trend line che lo accompagna da tempo e soprattutto del nostro btp che come vedete è andato praticamente a testarsi quest'area dei 440 insomma lo vediamo bene 442 che a lungo era stata resistenza quindi grafici molto interessanti devo vederci anche una settimana che vede il petrolio protagonista di un ritorno sotto quella quota degli 82 83 dollari che a lungo è stato baluardo di resistenza e poi in parte anche supporto ora dobbiamo andare a cominciare a fare i conti con quest'area dei 78 che forse può essere il supporto successivo e l'oro che alla fine della settimana chiude a 1999,2 quindi praticamente a 2000 dollari non vuole mollare quest'area molto feroce dove sta accumulando e se dovesse superare i 2010 credo che quantomeno l'area 2060 se non i massimi di tutti i tempi che stanno un poco sopra 2080 potrebbero anche essere testati continuo la fase un po' di difficoltà il rame marker dell'economia per ora si ferma sotto la trend line vediamo se riuscirà a rompere a rialzo di sicuro ha messo un po' alle spalle il pericolo di finire sotto quest'area dei 3,55 circa che è il supporto più importante che lo contiene da oltre un anno diciamo così l'oro l'argento scusate è in laterale il gas naturale cerca di consolidare i buoni guadagni ottenuti più per merito di contratti che hanno un contango elevato che per reale come dire contesto di mercato il vix torna sotto 15 quindi torna diciamo su livelli molto importanti tutta una settimana di discesa sappiamo che sotto 16 e noi siamo addirittura sotto 15 siamo in quella fase in cui il mercato è molto tranquillo e con pochi timori con poche paure passiamo velocemente in carrellata a vedere anche i grafici degli indici europei non ancora recuperati 4.200 che non c'è bisogno di disegnare si vede subito che razza di resistenza sono per l'euro store 50 e anche il dax ancora lontano da quell'area dei 15.600 che rappresenta un vero e proprio baluardo lo vedete qui e quando sarà raggiunto sicuramente dirà la sua livello di resistenza si vede già da questi grafici che c'è un europa più debole degli stati uniti ma andiamo a vedere anche che cosa succede sul nostro fuzzimib che oramai sancisce che 27.000 è un'area di supporto tostissima che se dovesse lasciare sotto avrebbe subito 26.000 ma qui non siamo sui supporti siamo sulle resistenze che si stagliano in sequenza una sopra l'altra quindi attenzione se dopo che è stata rotta questa mini congestione e il mercato è già arrivata la prima utile si dovesse ora assistere a un ritracciamento oppure andare subito a livelli più alti per capirlo possiamo anche andare a dare un'occhiata ad alcuni titoli allora ricordiamo intanto che la settimana ha tre attori forti secondo me che si stagliano rispetto agli altri uno è Enel che recupera fortemente dopo questo breakout e si riporta in un'area intermedia perché è l'area vicina ai 640 quella che deve essere veramente violata rialzo ma il recupero è stato interessante esattamente così come sull'onda dei dati ha fatto benissimo intesa san paolo lo vedete qui si è portata anche sopra l'area dei 250 e ora la prossima resistenza utile diciamo che sta tra 2 e 61 e 2 e 63 lo vediamo benissimo qui ma forse il titolo regina della settimana dati molto buoni e nuovo massimo storico e anche rottura contestuale di quello che era il massimo precedente cioè dei 300 dollari valore pieno per questo anche insomma sul podio al posto più alto ci sta non a caso ferrari la ferrari insomma in qualche modo quindi direi movimento grafico di grande di grande rilievo questi sono i titoli italiani più significativi direi una settimana così così non proprio eclatante per unicredit che ha voci di cioè che ha il buyback sempre le voci su kkr su team lo vedete il movimento a rialzo a proposito di voce ovviamente nexi che dopo aver visto il forte ribasso sta recuperando terreno lo vediamo però si tratta in tutti questi casi di titoli diciamo così su cui sono chiacchiere uno dei titoli che meglio sta tenendo è leonardo che è uno dei titoli più lineari da questo punto di vista mentre medio banca sta recuperando ma dopo essere stata lungo uno dei migliori titoli del nostro paniere aveva visto una discesa piuttosto forte andiamo allora a vedere alcuni dei più importanti titoli americani che questa settimana hanno fatto parlare di sé nonostante gli earnings uno è microsoft guardate non c'erano gli earnings microsoft li aveva già dati il mercato li aveva anche apprezzati ha fatto il breakout di questo livello e probabilmente ora va stagliandosi come resistenza la precedente precedente massimo abbiamo parlato di earnings e quindi come non parlare di apple erano i più importanti earnings della settimana al mercato sembra che non siano tanto piaciuti ma il titolo era salito prima e poi dopo essere partito maluccio venerdì ha fatto un bel rialzo tutto sommato però diciamo che come dire apple rimane sotto una trend line ribassista mentre ci sono altri titoli tra le grosse capitalizzazioni come amazon che un po così come abbiamo visto per microsoft mette a segno una settimana di buon recupero e questo non è male è un recupero ma soprattutto è un allontanarsi da una situazione che poteva farsi critica quella che è la situazione grafica di nvidia che rimane ora con questo ampio box che come dire vede le quotazioni inserite in un range di cui ora ci si sta andando a occupare probabilmente della parte alta un grafico simile a quello di a quello di nvidia c'è la meta simile nel senso che dopo un grande rialzo si sta formando un'ampia zona di congestione del prezzo lo vediamo qui e ci sono anche dei supporti un pochino più in basso mentre sta continuando ad andare in laterale tra i titoli diciamo così che invece voglio segnalare perché hanno visto una fortissima reazione mi viene da segnalare mastercard lo vediamo qua che dopo aver testato un'importante area di supporto mette a segno una forte relazione sicuramente berkshire hathaway che come vedete mette a segno cinque sedute una più significativa dell'altra in termini di rialzo e si porta già quasi sopra alla resistenza successiva ma vorrei anche evidenziarvi titoli come home depot che sono quelli che poi ci fanno dire che questa è stata una settimana che ha visto il coinvolgimento anche di titoli è solo un esempio questo è ma ci fa vedere come appunto anche di titoli che recentemente il mercato non apprezzava più tanto cioè titoli solidi ma che in questo momento il mercato non voleva invece qui siamo andati al recupero su tutta la linea quello che però secondo me è il grafico più bello tra gli altri tra gli altri americani è quello di adobe perché a me piacciono molto i titoli che hanno la potenzialità per andare a fare un breakout e allora adobe che da un po' di tempo si muove all'interno di un box si sta avvicinando la parte alta e chissà magari sarà la volta buona per vedere se riuscirà a fare un breakout insomma una settimana che secondo me è stata contraddistinta da rialzi prevalentemente per ricoperture ma che tutto sommato finché continua e dovesse comportare anche dei breakout è comunque interessante monitorare sempre con grande attenzione perché l'evoluzione è stata forse un po troppo rapida e non supportata come vi ho fatto vedere da volumi con cui per questa settimana è tutto alla prossima ciao